Ciao a tutti! Oggi prepareremo un polpettone di pollo con un contorno di piselli, carote e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 75 minuti. Gli ingredienti sono macinato di pollo, parmigiano, olio, uova, prezzemolo, sale, piselli, vino bianco, carote, patate, pane raffermo, un mazzettino di basilico, pepe, un dado, i pomodori secchi sott'olio e poi formaggio e pancetta stufata. Andiamo via alla ricetta! Mettere all'interno del boccale il parmigiano e il pane. E frittare per 10 secondi a velocità 10. Metteremo il prezzemolo, le foglioline di basilico e andiamo a frittare ancora per altri 10 secondi a velocità 10. Uniamo adesso il pollo. Le uova. Mezzo cucchiaino di sale. Un po' di pepe. Andiamo ad avancamare per 20 secondi. Anti-orario. Un po' di pepe. Un po' di pepe. Dopo aver spianato bene l'impasto andiamo a mettere il ripieno. Andiamo adesso a chiudere il polpettone, aiutandoci con la carta da forno. Chiudiamo anche i laterali. Adesso andiamo a mettere su e rivestire il polpettone con la pancetta. Facciamo avverire la pancetta anche dietro. Adesso andiamo a posizionare il polpettone all'interno del vassoio del Varoma. Dopo aver posizionato il polpettone all'interno del Varoma andiamo a mettere le patate. chiudiamo con il coperchio e adesso andiamo a preparare il contorno. Senza lavare il boccale andiamo a mettere la cipolla all'interno del boccale e tritare per 5 secondi a velocità 7. andiamo a riunire sul fondo con la spatola. andiamo a mettere adesso all'interno del boccale i piselli, le garote e l'olio. chiudiamo e andiamo a insaporire per 3 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità 1. senza misurino. andiamo a inserire il vino bianco. 5 minuti, Varoma, anti-orario, velocità 1. senza misurino. adesso uniamo l'acqua, un cucchiaino di dado bimbi e un po' di pepe nero. chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il Varoma con il polpettone e andiamo a cuocere per 40 minuti, Varoma, anti-orario, velocità 1. il polpettone è pronto, andiamo a impiattare. polpettone di pollo con contorno di patate, carote e piselli. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti.